Salve a tutti gente, sono Caso90, benvenuti su This War of Mine Questo è un gioco parecchio parecchio bello, che ho visto tantissimo su Youtube Però da parte degli americani, comunque sia, non italiani E ho deciso di farlo anch'io, mi è piaciuto, l'ho comprato da veramente poco Con i saldi adesso di Steam l'ho preso Quindi, direi di cominciare subito Ho già provato un pochino le meccaniche di gioco Giusto per fare un pochino di pratica, se non è brutto Quindi, carichiamo, anzi no, forse ce l'ho già Sì, esatto, mi sono fatto il mio personaggio, direttamente Carichiamo qualche persona, bam, così Sono io e qualche altro tizio Questo va bene tutto così Mappa della città, ho già fatto una mappa che ho chiamato Cagliari Non sapevo come diavolo chiamarla Che contiene tutte varie robe, varie zone dove si può esplorare, eccetera, eccetera Quindi, arriva l'inverno presto, temperato, blablabla, questo lascio tutto così Salviamo la mia storia, o no? Salva la mia storia, vai, sì Caso Oh, vabbè, veramente un sacco di inventiva Quindi, iniziamo la nostra storia Si parte dal primo giorno, giorno 1, immagino Primo giorno Quindi, primo giorno In sto gioco che si fa? Fuck the war, ovviamente Noi siamo praticamente dei sopravvissuti alla guerra E dobbiamo andare in giro, eccetera Cercare robe per sopravvivere, in poche parole Anche, tra le macerie, cercare degli oggetti che ci possono servire Per fare gli upgrade alla casa Tipo, tappare i buchi Per evitare che entrino ribelli, robe varie Tutte cose del genere Quindi, vediamo un po' Siamo qua davanti Siamo pronti alla sfida Guardate che figo che sono Guardatelo qua Eccomi qua Seduto, ovviamente Non potevo fare altro Allora Sono talento per l'elettronica Questa è abile combattente Abile combattrice Velocista Ok, non abbiamo nessuno Nessuno decente per fare robe fighe Quindi Facciamo una cosa Abbiamo già trovato qualcosa Oggetti di base Materiali Bla bla Acqua Prendiamo tutto, ovviamente La nostra roba è qua Quindi io, lei La mando qua Io, me stesso Per favore Cominci a aprire la roba qua Ah, questa è chiusa a chiave Cavolo Vabbè Allora, andiamo giù Questa è aperta Anzi, anzi, anzi Vai qua No, no, vai qua Ho sbagliato Guardate quanto corre Ok Corre un sacco Però ce l'ha fatta Allora, tu cominci a rovi stare là Tu Anzi, tu Sali qui su E comincia a togliere Sta roba qua Questa è aperta Quindi posso entrare via Qua c'è il bagno Ma non ci interessa granché Qui cosa c'è? Ah, è semplicemente la sedia Mi son riseduto di nuovo Tu invece vai a controllare qua Se è aperto Perché la prima cosa che dobbiamo fare In questo primo giorno È cercare Cercare più robe possibili Per poter Poi sopravvivere, ovviamente Vai qua allora, Kiko Cerca le robe qua Ok, abbiamo Uh, 14 di materiali Buono Prendi tutto Tutissimo Ehm Giusto Ogni episodio ovviamente Di questa serie Durerà un giorno Nel senso Ogni giorno Che facciamo qualcosa Qua Nella casa O comunque sia Ogni giorno che passa Noi termineremo l'episodio Andremo avanti così Di giorno Di giorno in giorno Secondo me È la scelta migliore da fare Allora, tu Controlla qui Vai Questa sta ancora Prendo robe qua Quello lo stesso Adesso prendi tutto Qui Esci Allora Do A me stesso A me medesimo Di andare qua giù A fare qualche upgrade Però scendi di velocità Adesso ci mettiamo Tantissimo tempo Questi hanno quasi finito I rovistare tutto Tu Ah ok Posso già cominciare Allora Possiamo fare Stuffe Per inverno La radio Che non è male Lo stesso Però io vorrei cominciare A fare dei letti I letti servono Un sacco Quindi produciamo Il primo letto Nostro E lo mettiamo In una stanza Un pochino Tranquilla Tipo qua No Questo è un bagno Tipo Non è proprio il massimo Dove mettere un letto Però forse Va bene anche qua In realtà Non ci interessa Particolarmente Quindi posizioniamo Il letto E andiamo anche A costruirlo Lui dove Inizia a far freddo Eh lo so Gico Però Abbi pazienza No Allora tu vieni qua E mi prendi Tutto Tutto quello che puoi Questi due hanno Quasi finito Di distruggere tutto Lei si ha finito E facciamo fare anche questo Poi dovrò ovviamente Andare a cercare cibo Roba varie Ci sono parecchie 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 cose Da fare Qua abbiamo già Un pochino di cibo Tutto per noi Lei Sta cominciando A fare ste robe Questa è chiusa Ok Forse Non è chiusa a chiave Si spera Dimmi che non è chiusa a chiave Perché così posso anche Controllare qua tutto Prova Grande così Posso anche esplorare Sta parte qua di casa Mentre che gli altri Fanno Tutto quello che devono fare Uh Grimaldello Buono Ci serve Il Grimaldello ovviamente Ci serve per Per poter aprire le porte chiuse Giustamente Ok qua il primo letto è andato Quindi io Ho fatto il letto Sono un gran figo Andiamo giù Allora Penso Di voler fare Forse un upgrade A Questa zona qua Ora vedo Tunnelment Ah ok Al letto Produnerà un letto Produci Produciamo un altro Perché Ci servono un sacco I letti Se lo posiziono qua È brutto Non me lo fa neanche posizionare mai Qua Posso Sì Ok posiziona Tu invece Controlla qui Cosa c'è Questi sono i primi upgrade Perché ho intenzione Di fare una roba particolare Prendi tutto qua Non c'era quasi niente In sta zona Che palle Ho intenzione Di fare delle upgrade particolari Ovvero Non upgrade Delle robe particolari Del tipo Alle persone qua Serve mangiare Serve comunque Sì a dormire Tutto il resto E voglio creare Dei turni di guardia Visto che siamo in quattro E la notte è possibile Andare in giro Volevo mettere Due persone a dormire Uno di guardia Alla casa Per evitare Che i banditi entrino E Una persona Che va ovviamente Ad esplorare Ad esplorare il mondo Alla ricerca di Altri oggetti Quindi il giorno È anche quasi finito Possiamo potenziare Questo Quindi produci Potenziamo 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 la roba Per fare Per fare più oggetti E qua Possiamo utilizzare Un grimaldello Io direi di utilizzarlo E speriamo Che ci sia qualcosa Di figo Se non c'è qualcosa Di figo È Peccato Ah Delle bende Altro Cosa sono questi I libri Ok Quindi i libri Tirano sul morale Bene così Buona sapersi Oserei dire Ok Andiamo qua Lì ci sarebbe Altra roba Da aprire Ma non abbiamo Niente Lui ha finito Quindi controlliamo Sta zona qui Cosa c'è È chiusa Ok Quindi dobbiamo Trovare più grimardelli Possibili Qua come potete notare Arriva tutto Quello che ci serve E tu Tu Vedi un po' Puoi costruire qualcosa Di figo Possiamo costruirla A radio Direi di produrla Vai Dove la lasciamo La radio Qua davanti No Qua 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 Ok Posiziona Questa Non so bene A cosa serva Penso ci permetta Di Di vedere Varie robe Tutto quanto Qua è tutto chiuso Abbiamo due letti Direi che sono a posto Però devo aspettare Che termini il tempo qua Al momento Non posso più fare altro Sino a che non ho Varie robe Per aprire lucchetti Non posso far niente Quindi Io al momento Sto fermo Allora Non so Se mandare me stesso Come primo Forse si Manderò me stesso Per la prima volta A A cercare varie cose E qua c'è la radio Che ci dirà Ci dirà tutto Per quanto riguarda il mondo Quindi di ribelli C'è Incanto Non attraversare La linea del fronte L'ha mancata Osservanza E la disposizione E vorrebbe comportare La morte Ok Ah possiamo Che figo Possiamo sintonizzarla A noi E' bellissima Sta cosa Ok qua Non c'è niente Se aspettate Le giornate Abbastanza fredde Una delle nostre scuole Ci ha fatto sapere Che In una giornata fredda Non c'è niente Di meglio Di una tazza Di vin brule Caldo Godetevelo Ok Quindi ci dà Varie informazioni La notte Siamo arrivati al punto Della notte Quindi Rovista 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 Allora No Mando me stesso A rovistare Tu dormi Dormi a letto Dormi Perché due Perché due di due Ah ok Sì E tu fai la guardia Abile combattente Lo lasciamo a fare la guardia Per la prima volta No E possiamo andare Nel nostro rifugio C'è il cottage abbandonato Un mucchio di cibo Montagne di materiali Qualche medicina Montagne di armi Un mucchio di party Dove proviamo ad andare Proviamo il cottage abbandonato Non mi ricordo neanche qual era Quello tipo senza persone O se c'erano persone o meno Allora Visto È vicino al nostro rifugio Andremo a rovistare qua Non abbiamo niente Non mi porterò niente Voglio provare ad andare così Quindi Rovista Andiamo con lo zeno vuoto Perché possiamo portarci anche tipo Penso armi E robe varie Ma non voglio Ah Non mi sembra ci sia nessuno Quindi Cominciamo a rovistare qua Ok E abbiamo già trovato qualcosa Bossoli di pistola Buono Prendi tutto Esci da qua Ora Camminiamo molto lentamente Perché non vorrei che ci sia qualcuno O robe varie Poi se c'è qualcuno ovviamente Corriamo subito verso l'uscita Tantissimi materiali che ci servono Qua non c'è più niente Si va avanti Ok Speriamo bene Come notate Sopra ci sono anche le I bossoli delle pistole Quindi Porca Eva Quante cose ci sono Non possiamo prendere tutto Ovvero Ehm Prendiamo il caffè Prendiamo sigaretta arrollata Di qualità Concime Ci serve un sacco Materiali si Ehm Parti d'armi Non so effettivamente Se mi servono tanto Però le prendiamo comunque Al momento Stiamo così Ok Se troviamo qualcos'altro Di più utile Ovviamente Togliamo tutto E via Allora Sembra non ci sia nessuno Lo sto controllando Perché effettivamente Si vede quando c'è qualcuno Quindi Ok Facciamogli distruggere questo Ovviamente facciamo un rumore Quindi se Dovesse arrivare qualcuno Sarebbe un problema Una pala mi farebbe Davvero comodo Eh non ce l'abbiamo la pala Mi spiace Mi spiace tantissimo Però cominciamo a vedere più robe C'è qualcosa in più Qua davanti Ehm Sembra che non ci sia nessuno In realtà Perché Non vedo Non sento rumori Non vedo neanche Il suono dei rumori Eccetera Perché si vedono Tipo delle Delle robe rosse Che pulsano Quando c'è qualcuno Che cammina magari Quindi al momento Pare tutto Pare tutto ok Sarò un talento Per l'elettronica Però Ci metto 20 giorni A spostare Catrame Cos'è E comunque Visto che stiamo aspettando Che Io stesso Ovvero me stesso Pulisca Tutto quanto Eh Ditemi nei commenti Se Se vi piace Se vi piace Una serie del genere Ovvero Un survival Ehm Diciamo Un survival del genere Non è male Secondo me È molto Molto carino Come gioco Quindi Ditemi se vi può interessare Un'avventura del genere Noi ora controlliamo Anche qua Qua ci torneremo Perché ci sono un sacco Di robe da prendere Cosa tutto c'è Altre partidie Armi Questo lo posso prendere Di nuovo Questo lo posso prendere Prendere Questo no Libri Non ne ho Quindi via Ok Proviamo qui Come vedete Se io mi metto a correre Faccio un rumore Ecco perché sto andando Un pochino C'è qualcuno Gente c'è qualcuno Materiali non li posso prendere Ah no Questo è zucchero Attenzione C'è gente qua Ho visto Ho visto il rumorino Guardate 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 Ah no Ok Sono solo topi Sono Cavolo Stavo già dicendo Mica me l'ho scoperto Invece no C'è una nota sotto il tavolo Non è proprio nascosta Ma potrebbe facilmente Non essere notata La scrittura si direbbe Che è stata scritta Da una donna in fretta Mi dispiace tanto Non potevo più aspettare Nascosto alcuni gioielli All'interno dei libri Cerca nel seminterrato Dentro delle scatole Blah blah Ok quindi Qua sotto C'è roba da prendere C'è un bel po' di roba Da prendere Ma Non lo faremo oggi Perché non abbiamo Abbastanza spazio Nello zaino Purtroppo Medicine Cavolo Mi servono un sacco Lascia qua Prendiamo le medicine Subito Queste le voglio Assolutamente Eh Che bossoli di pistola Però non sarebbero male I componenti Ci servono Eh Buttiamo ste robe Va Prendiamo qua E vediamo se riusciamo A Aprire la porta Da questa parte Spero non ci sia bisogno Di un grimaldello Perché se no Abbiamo veramente Poco da fare Ancora Apri Grande Ok Guardate quanto è bello Quanto è figo Andare contro lei Le robe così Legno Mi serve Ma non lo posso prendere Eh Proviamo a salire su Sperando non ci sia nessuno Neanche su davvero Qua c'è un'altra nota Questo povero uomo Era stato sorpreso Dal bombardamento Che stava facendo qui Eh C'è roba Vabbè Questi sono topi L'abbiamo capito Non c'è nessuno Pare Spero Se non è un problema Altro legno Ehm Qui Qualcosa di più interessante Dimmi che c'è qualcosa di interessante Grazie Altri bostoli di pistola Prendi Questi non li possiamo prendere Questi si Polvere da sparo Che penso ci servirà Per fare poi Proiettili eccetera Ehm Lasciamo questo E prendiamo la polvere da sparo Mi interessa di più al momento Allora qui Ok Sì Quelli sono ancora topi Sto controllando E non c'è nessuno Quindi apriamo Il legno mi serve ragazzi Quindi penso Tornerò Tornerò più presto qua Da questa parte E via Ok aperta Controliamo anche qua Buono In questa parte Ci sono un bel po' di materiali Che mi servono Però lo faremo la notte prossima Ci sono altri bostoli di pistola Altri materiali qui così Non possiamo più prendere Il polvere da sparo E il legno Ok c'è una zona anche su Direi di controllarla E poi Ce ne andremo via Buono Quindi abbiamo una zona Dove non c'è effettivamente Nessuno A A controllarci Ecco Quindi altri bostoli di pistola Altri materiali che non possiamo prendere Buono Andiamo giù Posso scendere da qua? Buono Anzi Mettiamo direttamente Corri all'uscita Va Ah Ok c'è l'uscita qua davanti Daniel è tornato Meno male Mi stavo preoccupando Ok Caricamento Quindi abbiamo Saccheggiato un bel po' di robe Saccheggiato Sono abbandonate E siamo arrivati al secondo giorno Quindi Buondì ragazzi Ho trovato un bel po' di cose di qualità Che notata Niente Niente Ok Continuo Abbiamo trovato tante robe Che potremmo utilizzare poi per le varie robe Qua abbiamo la nostra roba Guardate quante cose ci sono Ho trovato veramente tanta tanta roba E cari miei Terminiamo quel primo episodio Spero che vi sia piaciuto Metto in pausa Perché non vorrei No Non vorrei che andasse troppo avanti Col tempo e tutto Ragazzi Ditemi sotto nei commenti Cosa ne pensate di This War of Mine Mettete mi piace Tanti se volete che la serie continui Perché così I mi piace servono per farmi capire Che vi è piaciuto davvero Questo episodio Che siete interessati a vedere Qualcos'altro Di questo fantastico gioco Perché a me piace un sacco Quindi Mi piace Commentino qua sotto E ci vediamo di nuovo qua Su This War of Mine Ciao a tutti